Video abbastanza insolito per il mio canale è mattina presto, è domenica festa della mamma, 9 maggio no, è 8, ho sbagliato, è 8 pensa un po', mi dimentico pure le cose vabbè ieri c'ho avuto una giornataccia, la scia verde posso parlare di barba io? volendosi, subito dopo, la sigla allora ben ritrovato, come stai? tutto bene? allora come ho detto io oggi un video un po' insolito un video nel quale appunto lascio entrare anche i suoni della mattina presto una domenica bellissima, mi auguro che sia bellissima e oggi ti parlo della cura della barba io, ma non ce l'ho lunga, si ma c'ho i baffi quindi lo posso dire ugualmente andiamo a giornare il calendario, oh, è 8, 8, 8 8, eccolo qua, 8 domenica bellissima domenica almeno sai che c'è la mattina quando senti l'uccelino che canta il cane che abbaglia, il motore che si accende sotto tutto è più poetico allora, parliamo della cura della barba mi è capitato nel corso del tempo e mi è capitato tutto, ora che trovo a persone che portano la barba per esempio lunga, o anche i baffi lasciate così allo stato obbrato non intendo sistemati, quindi tagliate la perfezione allo stato obbrato, nel senso che magari, sai, c'è il prurito, degratti il viso le cellule morte si staccano, vanno fino in mezzo alla barba non è bello da vedere perché è brutto eppure vedi gente con i peli molto secchi allora, io in questa mattinata così molto delicata e tranquilla, ti vado a presentare che cosa? la nuova linea per la cura della barba e anche dei baffi, mettiamocelo a mezzo di The Goodfellas Smile e ti faccio vedere il set che ho io utilizzerò oggi soltanto due prodotti il terzo, te lo spiego, ma è semplice e banale, però ogni tanto è bene ricordare appunto queste piccole regole più che altro per noi allora, io so due o tre giorni che sto utilizzando un balsamo e diciamo che un po' di forma la stanno riprendendo però, te devi lavare te devi lavare, per forza li devi curare allora, andiamo nello specifico quindi come primo step sicuramente farò un lavaggio ma te faccio vedere quello che sto a parlare eccoli qui allora, abbiamo lo shampoo l'olio e il balsamo però attenzione, ci hai fatto caso che ci sta scritto si, citrus quindi Godfellas Smile che ha fatto ha tirato fuori le linee per la cura della barba con le profumazioni dei saponi che produce quindi è qualcosa di spettacolare fermati allora, questo essendo uno shampoo la fragranza si sente molto non è persistente a bestia nel senso che se te la metti la mattina poi mette poi l'olio sarei stiti con una breve macic per far te capire, sarebbe troppo potente quindi che hanno fatto hanno messo una buona quantità di profumazione ideale anche se fa il trattamento di sera penso che sia bella la sera i profumi dei citrus in modo pesante qualcuno sia contento o magari ti potrebbe dare anche un po' di fastidio un po' di noia allora andiamo a vedere nello specifico quant'è il il quantitativo so 250 ml mi sembra che sta sui 10 euro mi sembra è ottimo per lavare appunto i baffoni o il barbone mi raccomando perché è importante allora io ne approfitto visto che tutti stanno ancora a dormire un po' di acqua calda non so magari non ti interessa ma fa sempre bene parlarne soprattutto con la manutenzione eh sì dai su allora che devo fare mi devo inumidi il baffone te lo faccio vedere beh a parte il momo o bagno poi arrivo qua poi questa è una bella dimostrazione qua sul campo prendi qualche goccino senza esagerare eccolo qua è preso pure troppo parca miseria perché io comunque ho solo il baffo quindi oh di aria fina sotto un po' di acqua è bellissimo sentire l'odore del sisidrus di una mattina sotto al naso dopo aver preso il caffè bello prepotente cioè loro dichiarano che si non ha persistenza ma lo senti forte nello shampoo veramente forte vado a lavare comunque devo dire a parte tutto beh non è perché uno deve rici da la parte ma tra due o tre giorni usando il balsamo e mi ci sto trovando molto bene perché col fatto del vabbè trasandato un po' sto baffo un po' per via della mascherina che ti fa effetto messa in piega ma al contrario devo dire che un po' dei vantaggi li ho trovati soprattutto perché adesso ti parlo un attimo al volo del balsamo perché sennò poi alla fine si perdiamo questo balsamo veicola anche il verso sia della barba quindi se la vuoi tirata bella giù non appiccica non te unge però te rende il pelo abbastanza morbido e ti posso garantire che una sorta di piega te la dà allora qui dentro noi il bello della cosa è che ci abbiamo un sacco di cose ci abbiamo il burro di carité l'estratto di germe di riso questo questo che canta bella da lui che chiamate cantare così presto poi c'è la noce di macadamia l'olio di semi girasoli e l'olio di jojoba e non è non è poco ti posso assicurare che a parte la bella profumazione qui non è fortissima non è fortissima però c'è sempre quello zampino del sisidrus che non si sa perché a me mi fa un pazzo no non è fortissimo appunto per non darti il fastidio sotto al naso che magari come dici si buono lo apprezzo però tutto il giorno magari oppure quelle ore nelle quali mantiene la profumazione mi dà fastidio di avercelo troppo acceso allora lo poso un attimo perché la cosa più importante è la messa in piega e io qui sveglio tutti e ti faccio via un corpo pure a te perché preferisco taglia una asciugata mi raccomando non deve essere né troppo calda né troppo calda forte tra virgolette ok una volta che ho messo inquadra la situazione potrei utilizzare sia l'olio sia il balsamo nel senso noi insieme o uno o l'altro allora l'olio da barba e andamola a vedere perché è interessante anche lui ha un carattere un po' più pungente nel senso che senti senti più tutte le parti della piramide olfattiva appunto del sisidrus il bello di questo che sono 30 ml di questo appunto olietto da barba è che c'è l'olio d'argan olio di mandorle olio di avvocato estratto sempre di germe di grano e poi abbiamo la noce di magadamia e l'olio di semi di girasole quindi è bello bello oleoso essendo appunto un olio tende vedi ad oleare però non è appiccicoso come tanti che ho provato che sono veramente pesanti al tatto belli massicci grassi questo non è così si esce la parte limonosa ma senti più la corposità appunto dell'intera piramide olfattiva allora l'olio quando va utilizzato l'olio va utilizzato a parte per vitalizzare il pelo farlo risplendere alimentarlo in qualche maniera serve a quello va messo cucchetta cucchetta e poi piano piano districato verso tutto il baffo ma deve andare anche sulla radice perché la pelle sotto quando porti la barba o c'è i baffoni respira male quindi c'ha bisogno del nutriente e l'olio fa il lavoro suo poi ti ripeto ci stanno anche altre profumazioni che ha fatto TGS poi sta a te decide quale ti può piacere però è bella averla abbinata perché anche chi c'ha barba lunga che fa i contorni e prende il sapone da barba perché se vuole insaponare qua sotto gli piace sto profumo può completare l'opera grazie a sti prodottini qua oggi proprio recensione tipo clio make up sto a fare allora andiamo subito sul balsamo su un balsamo che fa quasi tra virgolette un pochino ma poco poco in modo blando l'effetto cera per baffi non sto dicendo una cera sto dicendo che potrebbe tra virgolette adempiere a questo piccolo obiettivo allora ne va presa poca e va poi scaldata come appunto fosse una cera da baffi sembra una cosa una cosa strana è applicata su tutti i peri logicamente se c'è il barbone sai meglio da me che la quantità è maggiore da prendere però se ne viene via tranquillamente senza troppe difficoltà per chi porti baffi e usa le cere da barba sai che alcune cere d'api sono molto dure e vanno scaldate addirittura col phon e non fa in tempo una volta l'everphone a portarla via perché si è raffreddata questa è una routine che devo fare c'è chi si fa il capello la mattina c'è chi si fa il contorno occhi e la faccio il baffo e appunto questa cera si questa cera questo baffo ti lascia il peletto se utilizzato in modo costante mattina e sera lo lascia bello morbido o allora che a me purtroppo è capitato ultimamente senti il pelo molto secco lo senti proprio quindi tende comunque a sia a spezzarsi sia allo stesso tempo non ha una forma a parte io dovrei da una bella rifinitura a sti quattro peli che c'è sotto al naso però in qualche maniera per il momento posso tamponare anche così che ce ne avrete a sfruttire ecco qua il lavoro è fatto la mia cura quotidiana me la so fatta ne prendo un altro pochettino giusto per non appiccica non ti dà quel sentore da appiccicoso questa sera tranquillamente e ripeto se ti tocchi il baffo o la barba durante la giornata non senti l'oliosità il fastidio di quello che ti sei messo in viso che è molto importante ok ripeto non è una sera baffi però un minimo di piega mi ha dato e te dura te posso garantire eccolo qua quindi ho fatto la mia routine quotidiana in poco tempo diciamo così ti ripeto è molto importante perché lascia perdere trascurare è qualcosa che poi una volta che di parte sistemare diventa una noia che non finisce più soprattutto e mi è capitato pure a me quando ho voluto provare i vari esfolianti eccetera eccetera che vede sotto soprattutto se te gratti sotto al pelo vede la belle morta che sta lì mamma mia che roba che zozzura che te beh no non mi piace quindi modo rappresentato un po' in sordina un po' in tranquillità questo è un video di appunto informativo ecco tu qua so da da definire i baffi però intanto nel frattempo quindi se c'è bisogno di qualcosa nel frattempo se è quasi assorbita quindi non la sento quasi più logicamente mi devo lavare le mani però non la sento quasi più se qualcuno di voi mai la proverà mi faccio sapere se ho detto la marete cavolate ho detto qualcosa che rispecchia la verità che spettacolo comunque io non dico niente però carissimi amici di TGS ma il bagno schiuma ma che anno me lo fate lo fanno tutti ormai lo fate pure voi no almeno quest'estate posso quest'estate me auguro posso un bar docione no all'aperto mezzo al campeggio con sto profumo di limone forte tentacoli no eh che dici ti è piaciuto lo so magari a quelli che amano la rasatura questo non gli interessa però è un'informazione in più perché in mezzo a tanti di uovi c'è sta anche chi porta il barbolo lungo perché non farlo in maniera accurata allora altra cosa ci sta a pensare adesso logicamente io ho fatto soltanto questa zona quindi a me un balsamo come questo mi durerà un bel po' un bel po' l'olio pure perché considera che l'olio va applicato ora ritorno un pochetto a ritroso va applicato in piccoli quantitativi mi raccomando soprattutto sui baffi ma anche sulla barba perché se eccedete poi a parte che ve gola e sembra che vi siete strofinati con la carta della porchetta per fatte capire ma d'altro canto poi tende a dare quell'effetto sudicio quindi se ne mettete troppo il consiglio mio è cercare di assorbire l'olio in eccesso con sicuramente un pezzo di carta o con un asciugamanino che poi dovete per forza la fonate un pochettino la mettete in piega in modo tale che il calore possa fare evaporare l'olio in eccesso mi raccomando perché mi è rimasto veramente impresso un trauma per me ho visto una volta una persona che se era votata la boccetta addosso così c'era questa cosa poi sto odore tipo resinoso non lo so ma ha fatto un effetto veramente strano quindi mi raccomando quando usate i prodotti per la cura della barba utilizzate un quantitativo consono non esagerate perché sennò vi dovete arrivare inizia da zero allora devo dire conclusione finale che lo shampoo è molto buono e importante per la pulizia e l'igiene perché comunque ci mangi ci fai in giro tante cose quindi depositate tutto l'olio nutre il pelo mi raccomando molto importante e il balsamo fa la stessa cosa ma in più ti aiuta a modellare il verso che è molto importante mo ci stavo a pensare quasi quasi di fare una crescita però poi che parlavo sui prodotti da barba non lo so ci devo pensare vabbè io chiudo qua oh grazie di aver visto il video e come dico sempre buoni acquisti e buone sbarbate e vabbè se lo vedi oggi o domani io intanto faccio auguri per una buona festa della mamma quindi va a fare gli auguri alla mamma perché oggi è la festa e la mamma è molto importante va a fare i video i miei buon time ciao